RTC Quarta Rete E' stata condannata a sei anni di reclusione la 42enne originaria di Nocera Inferiore accusata di maltrattamenti nei confronti dei tre figli minori, prostituzione minorile e atti sessuali con minorenni. La condanna della donna, attualmente rinchiusa nel carcere di Benevento, giunge dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Francesco Guerra. I fatti si sarebbero verificati fino a luglio del 2023. Al centro del processo le dichiarazioni dei figli, in particolare della figlia maggiore, oggi collocata in una struttura protetta, che ha raccontato le dinamiche che si verificavano in casa, dalle punizioni corporali alla deliberata privazione del cibo, ai racconti relativi agli atti sessuali che erano costretti a compiere soprattutto nei confronti di un amico della madre, il quale, in cambio di poche decine d'euro, abusava in particolar modo della figlia maggiore, all'epoca solo quindicenne. Oltre alla donna, che ha optato per il rito abbreviato, sono imputati sia il padre dei bambini che l'amico della madre. Per questi ultimi due si procede con il rito ordinario. L'avvocato della donna ha poi affermato che in realtà la propria assistita fosse lei stessa una vittima dei due uomini coinvolti nella vicenda. La madre, in particolare, era costretta a dormire sul pavimento in un angolo della cucina. Argomentazioni fondate che hanno convinto, seppur in parte, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che ha inflitto alla donna una condanna più bassa di quella richiesta dal pubblico ministero. I carabinieri del NAS di Salerno sequestrano 24 tonnellate di alimenti, per un valore di 146 mila euro. Vediamo. I carabinieri del NAS di Salerno, nell'ambito delle attività svolte nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, hanno compiuto 287 ispezioni finalizzate alla tutela della salute dei cittadini e a garanzia degli onesti imprenditori che possono subire una concorrenza sleale da chi opera in modo illecito. E di queste ispezioni, 120 sono risultate non conformi. Le ispezioni hanno riguardato i settori della filiera della carne, lavorazione e commercio di prodotti lattiero caseari, da forno e dolciari. Sono state riscontrate irregolarità, per cui sono state sequestrate 24 tonnellate di alimenti, per un valore di 146 mila euro. Le non conformità si riconducono al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo e al sequestro di alimenti non tracciati. Inoltre, durante gli accertamenti, è stato necessario sospendere 11 attività perché non rispettavano le norme igienico-sanitarie rilevate dai medici competenti dell'ASL, come sporco pregresso, muffa, polvere e ragnatele, utensili arrugginiti. Anche durante le attività pasquali, sono stati intensificati i controlli sui prodotti tipici, sequestrando 230 pastiere, prodotti dolciari, cioccolato, salumi, formaggi, carne, tutti alimenti privi della documentazione che ne attessa la provenienza. Guardia di finanza Napoli. Maxi sequestro di sigarette a Villa Literno. Il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri è in crescita. A confermarlo sono le varie operazioni condotte dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che solo dall'inizio dell'anno hanno sottoposto a sequestro oltre 2,5 tonnellate, denunciando 123 persone. Varie le zone della città e della provincia interessate. Dai quartieri cittadini di Secondigliano e San Pietro a Patierno ai comuni dell'Interland come Marano di Napoli, Villaricca e Saviano. L'ultima operazione effettuata dalle fiamme gialle ha visto il sequestro in Villa Literno di 1,2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e contraffatti, con l'arresto in flagranza di reato di un soggetto di nazionalità italiana per i reati di contraffazione e ricettazione. In particolare, le fiamme gialle del gruppo di fratta maggiore, nel corso del controllo economico del territorio, hanno notato un furgone dirigersi in un'area insolita del comune casertano. Ciò li ha indotti a eseguire un controllo che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro l'ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. Da immediate verifiche è stato possibile evidenziare che i pacchetti di sigarette riportavano tutti il medesimo codice univoco, che dovrebbe in realtà corrispondere soltanto a un singolo pacchetto. Qualora immesso nel mercato illegale, il carico di sigarette complessivamente sequestrate avrebbe consentito di realizzare un illecito guadagno di oltre 200.000 euro. Le indagini proseguono sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord. È stato celebrato questa mattina, a Salerno, il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un pensiero al maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore e all'appuntato scelto Francesco Ferrara. La Polizia di Stato si stringe al dolore che ha colpito le famiglie dei due giovani servitori dello Stato. Così il questore di Salerno Giancarlo Conticchio questa mattina è in apertura della cerimonia per festeggiare il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato ricordando anche le vittime della centrale Enel di Bargi. Un giorno di festa, come ha evidenziato il capo della Polizia Vittorio Pisani che cade purtroppo in un periodo segnato da guerra e cambiamenti climatici e tensioni sociali ma che sempre più rappresenta un giorno per esaltare l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso come ben sintetizzato dallo slogan Esserci sempre. Le celebrazioni sono iniziate nel piazzale antistante e la questura di Salerno dinanzi alla lapide che ricorda gli agenti Mario De Marco e Antonio Bandiera con la deposizione di una corona di alloro da parte del prefetto Francesco Esposito e del questore Giancarlo Conticchio che hanno poi passato in rassegna il picchetto della Polizia di Stato schierato in piazza Mendola prima della celebrazione nel Teatro Augusteo. L'anniversario di fondazione della Polizia di Stato è l'annuale appuntamento durante il quale si effettuano bilanci sull'attività espletata dalla Polizia di Stato in provincia di Salerno a testimonianza dell'impegno degli uomini e delle donne indivisa in un anno passato al servizio della collettività che si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare le nuove sfide della sicurezza. Ma quello di oggi è anche un giorno nel quale vengono premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione e si ricorda chi nei 172 anni di storia ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità. La sicurezza e la sua percezione reale passano anche dall'ascolto di chi ha bisogno dal saper dare una risposta tempestiva a chi è in difficoltà dal contatto con le persone e proprio oggi con le persone che la Polizia festeggia il suo compleanno così ai nostri microfoni il questore di Salerno Giancarlo Conticchio. 172 anni, celebriamo oggi la nostra ricorrenza ma con il cuore affranto per quanto è accaduto ai colleghi carabinieri e per quanto è accaduto nella centrale di Bargi e questa è l'occasione per dire grazie ai soccorritori e dire grazie al lavoro prezioso dei Vigili del Fuoco. Un'occasione importante per testimoniare l'importanza della prevenzione i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno dalla Polizia, da uomini e donne in divisa. La nostra mission è prevenzione, prevenzione, prevenzione e a Salerno, la provincia di Salerno sta usufruendo dei frutti della prevenzione attraverso l'applicativo YouPoll sono tante le segnalazioni dei cittadini che ci giungono e tante le risposte che la Polizia di Stato dà alla provincia di Salerno. I cittadini chiedono comunque sempre più sicurezza a volte si ha la percezione che questa sicurezza in città sia un po' minata da vari eventi. E noi lavoriamo proprio sulla insicurezza perché noi abbiamo messo a punto la capacità di ascolto e ci siamo resi conto che l'insicurezza è un dato che dà problema alla città di Salerno. Noi siamo presenti con servizi di colori di istituto ma anche con servizi in abiti borghesi. E ci spostiamo a Cava dei Tirreni dove è stato siglato domenica scorsa il gemellaggio tra Cava dei Tirreni e la città greca di Veria. Il stato sottoscritto domenica 7 aprile in Grecia il gemellaggio tra Cava dei Tirreni è Veria cittadina che comprende la comunità di Verghina ossia l'antica Eges capitale della Macedonia. Per l'occasione il sindaco locale Costantinos Voriazidis che nell'aprile 2023 aveva già fatto visita alla città meteliana ha accolto la delegazione cavese guidata dal primo cittadino Vincenzo Servalli. Una cosa molto importante la nostra città deve sviluppare un'attività in questa direzione soprattutto a beneficio delle giovani generazioni. L'Italia, l'Europa e il mondo devono essere una prospettiva devono essere una prospettiva non soltanto per i giovani ma soprattutto per loro che hanno un futuro davanti a sé e il mondo è fortemente interconnesso e ci sono alcuni paesi come la Grecia dove c'è una grande comunanza di valori di ideali e di prospettive all'interno del contesto europeo. La realizzazione di questo gemellaggio vuole essere proprio questo un ponte verso questo paese di straordinaria cultura un paese dal quale tutto è nato e dal quale tutto si è mosso ringrazio anche attraverso Quarta Rete l'associazione filoellenica e l'ex sindaco di Cava Marco Galdi che è stato il mediatore di questo incontro. Il sindaco di Veri è stato qui ho ricambiato la visita ma soprattutto abbiamo sottoscritto questo patto di amicizia e questo gemellaggio che si aggiunge agli altri gemellaggi che la città di Cava dei Tirreni già è che porta avanti e che è un grande segno di una città dinamica che si muove e che vuole avere lo sguardo aperto al mondo. La delegazione cavese era inoltre composta dall'assessore Antonella Garofalo dai rappresentanti del comitato gemellaggi e dal professor Marco Galdi presidente della società filoellenica italiana che già dal 2019 ha instaurato una proficua collaborazione con l'associazione culturale di Verghina e Ghes. In realtà è dal 24 aprile del 2019 questo percorso si è avviato allorché la società filoellenica italiana che è un'associazione che ha sede presso l'hotel Maiorino di Cava dei Tirreni ha stipulato con l'associazione EGhe che invece ha sede a Verghina che fino al 2001 e uno era un comune autonomo ma che oggi è parte del più grande comune di Veria un accordo fra associazioni da allora l'obiettivo era quello di fare invece un gemellaggio fra le città obiettivo che è stato raggiunto domenica scorsa il 7 aprile con la firma da parte del sindaco di Cava dei Tirreni e del sindaco di Veria appunto di questo memorandum per il gemellaggio come sono andati questi giorni nella città di Veria? sono stati per la verità due giorni ma molto intensi una grandissima ospitalità da parte dell'amministrazione di Veria l'opportunità per visitare i tesori che questa città presenta Veria ha nel suo territorio dicevo prima Verghina che è stata la prima capitale dell'impero macedone dove ci sono le tombe dei re macedoni in particolare la tomba di Filippo II il padre di Alessandro Magno del figlio di Alessandro Magno Alessandro IV della moglie di Filippo Olimpiade e in realtà si tratta di un museo diciamo anche sito archeologico perché si entra praticamente in questo museo ma dentro si trovano le tombe reali ed è veramente straordinario poi abbiamo visitato la reggia di Filippo che era un monumento visibile a distanza di chilometri e chilometri per in qualche maniera segnare il potere dei macedoni e abbiamo visitato il nuovo museo che hanno aperto da poco proprio nella Macedonia sempre nella città di Veria e poi ovviamente la città storica abbiamo visitato in particolare il ghetto ebraico la chiesa metropolitana insomma tanti tesori di cultura di storia che questa città offre e che sono ovviamente a disposizione dei cavesi che grazie al gemellaggio potranno andarla a visitare la regione campania parteciperà sabato 13 e domenica 14 aprile a cammini aperti il più importante evento nazionale dedicato ai cammini alla riscoperta del turismo lento una modalità di viaggio sempre più in voga che permette di assaporare a pieno anche angoli meno noti del nostro territorio la regione campania si presenta con la via francigena campana un cammino all'insegno di un passato importante ricco di preziose testimonianze che si snoda attraverso le province di caserta avellino e benevento il cammino di san nilo affascinante itinerario naturalistico nel cilento bizantino e il cammino di san pio un percorso di spiritualità fra i più intensi della campagna nei luoghi del santo di petrelcina il cammino di san nilo è un cammino già riconosciuto dalla regione campania ed è attualmente iscritto nell'atlante regionale dei cammini avendo soddisfatto tutte le condizioni previste dalla normativa vigente di prossimo riconoscimento è al momento e per la parte che si sviluppa all'interno del territorio campano il cammino di san pio inserito nel catalogo nazionale dei cammini religiosi italiani presso il ministero del turismo ci fermiamo adesso per una breve pausa e poi riprendiamo con lo sport colorificio cavese consiglia biotex anticondensa idropittura anticondensa traspirante antimuffa per interni di facile applicazione ottimo potere riempitivo e coprente via 25 luglio 87 84 013 Cava dei Tirreni Salerno a Cava dei Tirreni c'è un luogo dove l'esperienza incontra l'innovazione dove il gusto diventa arte e la tradizione si mescola con la modernità Vieni a trovarci in via Luigi Ferrara 79 Lamberti Market e Bistro dove la passione per il food è di casa Zero stress per riparare la carrozzeria della tua auto Restyling Car in via Starza a Cava dei Tirreni è specialista in riparazioni gestione sinistri con fornitura di auto sostitutiva detailing completo Sport Calcio la Cavese che ha già vinto il campionato ha fatto svolgere ieri un allenamento aperto al pubblico intanto il giudice sportivo della Serie D ha usato la mano pesante su alcuni calciatori della Boreale che pertanto non potranno affrontare il bianco-blu Primo allenamento a porte aperte per la Cavese ieri al Simonetta Lamberti dopo diverso tempo gli Aquilotti hanno aperto le porte della propria casa al pubblico alla prima occasione dopo che è diventata realtà la vittoria del campionato di Serie D con conseguente promozione in C era probabilmente dai tempi del ritiro precampionato che non si svolgeva un allenamento aperto al pubblico a Cava dei Tirreni e la società ha fatto questo per permettere alla propria tifoseria di essere presente e far sentire il proprio calore ai giocatori di Mister di Napoli qualche giocatore ancora ai box ieri per motivi fisici mentre è stato visto fare dei giri di campo il difensore Magri chissà che non possa tornare in campo già prima della fine del campionato regolare prima del termine della stagione la Cavese dovrà sostenere due partite in casa e due esterne con la possibilità vincendole tutte di raggiungere la quota dei 78 punti non sarebbe record perché il massimo dei punti raggiunti dalla Cavese in Serie D sono gli 80 conquistati dalla squadra del campionato 2002-2003 ma anche arrivare a quota 78 significherebbe che i bianco-blu sono rimasti sul pezzo fino alla fine del campionato regolare poi ci sarà l'appendice della Pusco-Detto un torneo che la Cavese nel 2003 ha anche vinto e che vorrebbe provare a conquistare anche quest'anno intanto c'è da giocare la prossima partita che sarà in trasferta alla Dispoli con la Boreale in quella occasione per la squadra a cui lotta non potrà giocare il difensore De Rosa squalificato per aver subito a tertenia la quinta munizione del campionato giudice sportivo inclemente nei confronti proprio della Boreale che si troverà ad affrontare la capolista senza poter contare su ben quattro giocatori squalificati tutti nel settore di difesa una giornata per Leonardi per cumulo di munizioni due giornate per Buccioni espulso a fine gara per aver offeso un calciatore e l'allenatore dell'Ardea e addirittura sette giornate per Zetti per aver colpito un avversario con uno schiaffo e aver poi dopo l'espulsione ripetutamente insultato l'arbitro questi si aggiungono al già squalificato Casavecchia un altro difensore hanno poi ricevuto una giornata a testa in casa nocerina l'allenatore Marco Nappi espulso per aver oltrepassato l'area tecnica nell'atto di protestare verso l'arbitro contro il Cassino e il jolly Citarella e il difensore Petti che hanno ricevuto la quinta munizione l'ischia perde l'attaccante Quirino per tre giornate in quanto ha colpito con un pugno un calciatore dell'Atletico Uri nella partita giocata sabato scorso l'Ardea è stata multata di 4.000 euro e dovrà giocare due partite interne a porte chiuse quelle contro Anzio e Romana a causa dei disordini creati durante il secondo tempo da tifosi e dirigenti della società ardeatina che contestavano l'operato del direttore di gara i rosso-blu erano rimasti dieci per espulsione di Bruno anche se poi avrebbero vinto lo stesso la partita quattro turni di stop li ha avuti l'attaccante Mancino dell'Ardea per aver rivolto espressione irriguardosa all'arbitro stava in panchina tre giornate ne ha avute l'attaccante del Trastevere Mastropietro per fallo di reazione una il difensore della Romana Tarantino e una lo stopper del Trastevere Santo Vito espulsi invece per cumulo di abonizioni sono stati fermati un turno il centrocampista Massimo del Trastevere la mezzala Bammacaro del Budonni e il difensore laterale dell'Ostiamare Maura intanto proprio stamattina la Cavese ha comunicato che a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti all'ordine pubblico è stata provvisoriamente sospesa la prevendita dei biglietti per Boreale Cavese a Cava era stato già venduto un buon numero di tagliandi si aspettano aggiornamenti in queste ore e con quest'ultima notizia è tutto l'appuntamento alle prossime edizioni del Tg di RTC Quarta Rete buon proseguimento di giornata a Cava